Il Vintiù la mia banca era l'aiuto del medico con una fama di fai e una fama di rivedibile la persona della comunità andasse tardando a nonno da persona da Borgia Frontiera ed egli era una seconda frase quando chiesto io sbandono ecco io una qui insomma Borgia Vierci l'avevo forte l'avevo le parole da stelle su e siamo riuscì dalla gossi andiamo a Santana di Noi da Santana di Noi siamo andati a Bussan d'Armos e abbiamo treni però dalla gossi siamo andati a Bussan d'Armos vabbè 80-80 km si è tanti da Bussan d'Armos vabbè a treno per alcuni sono tedeschi fa tempo fa tanto io sono andato sono andato in me ad il gabinetto il treno e io sono andato dopo il treno è partito e io sono andato insieme e io sono andato e io sono andato e io sono andato ma era che mi è partito mi buneer e io sono andato il fatto dei miti montaggi ma non sono andato e io sono andato edulard 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 e qui e da il cielo le蓉 edulard che l'u university avла è sal sul Don Germogna e sul Pirambico. E dopo ancora lo sapete dirò perché venti partigiani sono andato, c'è questo neutro volo. E favo il resto dell'amante, visto una volta io lavoravo da vigno sotto la coppia e mi metto con due coppia. E così ero, io lo favo a guardia con il canicciolo, il cavo, io tutto lo lavoravo. Dopo un po' mi sollevano, era una sollevano fuori, c'è tutto il mio coppia e io prendo l'amante. Sono andato assì. Quando è che sempre c'era un po' che, la Corte, io ero venuto con la metrona, attraversava la Corte, Cristo, mi sono arrestato, mi sono fermato. E girò, prendeva la coppia, io ero di qui, tu li ho, e ha giocato a scuola, e diceva, va dire, va dire, allora diceva io, che aveva venito e lui mi dai 3 a voi, va dire, va io però come non c'è ha quel nome, è io Phoenix, mi ha vigno, mi ha vigno. E mi hai volo Tedesca,, Tedesca, il mio amico ricordo, E' un'altra cosa che c'è? Abbiamo fatto il carriere al canto, abbiamo fatto il suo manetto che curavo lui, avevo una fisarbonica e cantavo e dicevo oggi è l'ultimo giorno di carnivale, abbiamo cito il maiole e facciamo festa. E lui da un terzo bucchio, ma viste, e cantavo su... la regla è via, c'è un fespo. Purtroppo sono ancora sei. E poi aspettò finché andai subìa. Ah, perché finì a Colonna. Si, sentì. E io trai l'indrinto che lo fa sempre. Ciao. Avevo un po' di mano. Adesso è una pinampata che mi fai, perché dove andò a partire già. Voi con te, ti partire già, voi con te. E io mando adesso, e poi passò io un periodo, e io... E un che era lì, e il figlio che era lì, e il suo collega, e ci appoglava a San Stéu, San Stéu Belbo, e io lo amò. E io andavo a Fogli e Fogli e in Fogli e in the Bible. E lo andavo a Fogli e Fogli, tu. Ah, ah, ah. Adesso viene più a Pio, Cersì. E' un po' di me, questo è un po' di me, questo è un po' di me, di me. Si, si. E io andavo a Fogli e a Fogli, del Vile, un po' di Marta, di Marta... Dopo si romantava con i cittadestri che aveva soglia il fiume e lui andiamo, lei è giovane, ne compra un altro. Alla po' che stanno in notte, che stanno in notte. Lui era lui, l'abitore da Ferrero, stavano, a voi fa niente e lui è buon giù, è buon giù.